I bambini della scuola dell'infanzia iniziano a costruire il loro futuro, trovando materialmente un posto nel mondo. A questo è servita l'esperienza di gioco vissuta nel piano centro di Campobasso, dai piccoli dell'Istituto Comprensivo Iovine, scuola che quest'anno ha abbracciato la causa dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, meglio conosciuta come Agenda 2030. Lo scopo è sensibilizzare le nuove generazioni sul proprio ruolo nel futuro del pianeta come individui, come squadra e soprattutto come cittadini responsabili. Nella piazza antistante, Palazzo San Giorgio, le maestre hanno organizzato il gioco dell'oca, una giornata che ha unito il divertimento a un obiettivo sociale importante, improntata a informare i bambini, a motivarli, a perseguire in prima persona gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ogni obiettivo è stato calato nella propria realtà, questo a dimostrazione che i 17 step dell'Agenda 2030 sono a portata di persone di ogni età, basta solo trovare la chiave giusta di lettura. A giocare in piazza con i bambini e le maestre anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, l'assessore all'ambiente Simone Cretella e il comandante della polizia locale Luigi Greco.